Illustri Festival, una delle mostre d'arte più amate dai vicentini, torna nella Basilica Palladiana dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. La grande illustrazione italiana e internazionale colorerà fino al 17 luglio non solo la Basilica, ma anche Palazzo Tiene e Palazzo Leoni Montanari. Alle gallerie abbiamo il privilegio di ospitare l'illustrissimo, quindi l'ospite internazionale di questa rassegna, Christophe Niemann. Ma questo è un percorso che si è costruito negli anni, è la quinta edizione e negli anni passati abbiamo ospitato Pablo Lobato, Noma Barra, Malika Favre. L'artista tedesco, nonché illustratore per il New York Times, Christophe Niemann, si è detto emozionato per questo importante evento. È tutto meraviglioso, io ero già stato qui, avevo già lavorato a Vicenza, è bello vedere questo festival, per me la cosa più importante è celebrare l'illustrazione, che è un mezzo di comunicazione davvero importante. Poter far parte di tutto questo per me è magico. Linguaggi sicuramente che vengono dal passato ma che diventano attuali nelle immagini di Elisa, così come per esempio le opere di Francesco Chiacchio, con un collage, con mille tecniche diverse sovrapposte. Un'inaugurazione partecipata e apprezzata dai numerosi visitatori, rapiti dai colori e dalla bellezza delle opere degli illustri, dei saranno illustri e dei maestri illustri. È un'operazione molto bella, ci mancava illustri, quello che colpisce è il talento di questi giovani, saranno illustri ma soprattutto anche la parte degli illustratori più affermati. Tornare dopo due anni di pandemia ad un evento di questo tipo è molto bello.